Musica Dottoressa Cittadini, un commento su questa nuova normativa sugli accreditamenti qui in Regione Sicilia? Una volta ancora di fronte a un percorso normativo impegnativo l'IOP ha un atteggiamento di grande entusiasmo perché come sicuramente ricorderete quando nel 2007 scattò l'accreditamento noi non chiedemmo rinvii, non chiedemmo proroghe ma accettammo una sfida che era la sfida di garantire alla Sicilia un servizio sanitario regionale efficiente, efficace, di qualità e che azzerasse quel gap che c'era con le regioni con le quali normalmente si fa benchmarking. Anche questa volta noi riteniamo che questo nuovo percorso che è un percorso evolutivo rispetto a quello del 2007 con criteri nuovi sia una straordinaria opportunità per migliorare, efficientare e razionalizzare l'offerta sanitaria che garantiamo ogni giorno un grande impegno ai siciliani. Hai chiesto durante il corso di questi lavori con forza un incontro fra assessorato e dirigenti generali delle ASP. Quali problemi avete riscontrato? Perché è necessario questo incontro? Parla di problemi non è prettamente corretto. Nel confronto virtuoso e costruttivo che ha caratterizzato sempre la nostra interlocuzione con l'assessorato abbiamo chiesto un momento di confronto rispetto all'omogeneità delle implementazioni sul territorio perché l'esperienza ci ha insegnato che queste normative così complesse necessitano di una interpretazione condivisa, di una formazione comune e di un sistema di regole condivise. Si rischia che i soggetti che poi sono chiamati da un lato a implementarle, cioè gli imprenditori e i soggetti che sono chiamati a verificare la corretta implementazione abbiano visioni diverse della stessa normativa. Allora a nostro avviso sarebbe opportuno e necessario istituire una task force comune che garantisca l'omogeneità delle regole sul territorio regionale. Cosa cambia per il cittadino con questa novità dal punto di vista normativo con il decreto assessoriale emanato a marzo di quest'anno? Cambia molto, nel senso che cambierà molto. Abbiamo un percorso che prevede un arco di tempo ai 12-24 mesi per implementare tutta una serie di requisiti, di standard che vanno incontro alle nuove esigenze del cittadino che il cittadino oggi è un cittadino certamente diverso da quello di dieci anni fa che è abituato a consultare internet, che si vuole fare una sua opinione prima di andare da una struttura sanitaria e quando va in una struttura sanitaria vuole trovare delle risposte veloci, efficaci ed efficienti. Quindi io immagino che con l'implementazione di tutti questi requisiti nel giro di 4-5 anni avremo una nuova sanità, una sanità che è più allineata alla sanità europea. È la prima volta che viene introdotto nel decreto di accreditamento il requisito dell'innovazione. Termi è spesso abusato. Credo in sanità la questione è legata a una definizione, è la possibilità di avere una definizione comune di innovazione. Dobbiamo partire dal fatto che bisogna essere in grado di erogare il miglior servizio salute al minor costo possibile per il cittadino e per la collettività. Questo è il primo aspetto dal quale dobbiamo partire. Innovazione non significa tecnologia ma è soprattutto un'attitudine e per questo ci vuole un percorso di formazione. Non basta inserire in un decreto di accreditamento un requisito. Accanto al requisito le strutture sanitarie dovranno percorrere un processo che le porta a pianificare correttamente l'innovazione, a valutarne i benefici economici e sociali e poi all'implementazione. Ultimo aspetto difficilissimo perché quando si tratta di innovazione non sono modelli consolidati, bisogna passare attraverso delle fasi di test, delle fasi pilota per poi arrivare alla scalabilità. Ma credo che la cosa più importante, l'ho detta prima, innovazione non è uguale a tecnologia. Innovazione è l'innovazione del modo in cui noi eroghiamo il servizio salute al cittadino.